Amici 3B Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di sabato, che vedrà un aumento della pressione atmosferica sul Mediterraneo e sull'Italia. Sarà quindi un fine settimana all'insegno del bel tempo, però attenzione, condizioni anticicloniche in autunno significa anche il rischio nebbia e così sarà. Andiamo comunque con ordine, guardiamo prima la nuvolosità attesa sull'Italia, non sono attese nuvole particolarmente estese e compatte, quindi, ripeto, fine settimana all'insegna del sole, anche come precipitazioni nulla di particolare da segnalare, senza nuvole, cosa vuoi che piova. Quindi, insomma, la situazione resta tranquilla, però andiamo a vedere in definitiva che sabato ci attende con appunto il ritorno della nebbia. Questo sarà l'elemento più importante, nebbie foschie dense in pianura padane nelle valli del centro. Con ogni probabilità saranno più estese insistenti domenica, però già sabato mattina in parte le ritroveremo, si dissolveranno comunque nel corso della mattinata e in effetti anche come temperature si starà abbastanza bene in tutta Italia. Per sapere comunque nel dettaglio come andranno le cose da voi, scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.